Pacchino ha denunciato un terzo giovane tunesino, anche egli coinvolto nella questione dei due connazionali avvenuta il 9 ottobre scorso. Come comunicato il 12 ottobre scorso, gli investigatori del commissariato di Pacchino, a seguito di un violento episodio accaduto nella Senata del 9 ottobre, quando per un diverbio tra cittadini di origine tunesina alcuni giovani avevano accerchiato e accreditato due loro connazionali, causandogli profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, hanno denunciato oltre a due giovani tunesini un terzo tunesino di 25 anni. La scena della violentarista, ripresa da un testimone, finì su un giornale online ed ebbe numerosissime reazioni da parte della cittadinanza. L'odierno indagato, oltre che per le lesioni aggravate riportate dalle vittime, è stato denunciato altresì per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale.